Allora, Presidente, siamo un posto che è così, novità assoluta, il nuovo palazzetto che ospiterà tra le altre, ma sarà la regina di questo palazzetto, la Pallamano MT, siamo nei giorni che precedono quello che sarà il debutto con la Coppa Italia, prima di parlare della Coppa Italia però che sensazioni ha entrando in questo palazzetto? Guarda la cosa, sinceramente mi emoziona perché avere una struttura del genere così sicuramente adesso siamo privilegiati, è un impegno ancora più arduo perché è ovvio che con una struttura del genere così merita che noi facciamo una Pallamano a un buon livello, dobbiamo essere orgogliosi, onorati e anche nello stesso tempo dobbiamo qualcosa sicuramente a questo comune che ci ha dato la possibilità di poter interpretare la nostra Pallamano in questa struttura. Il debutto sarà di quelli anche un po' da incorniciare con giornate di inaugurazione con Trieste, una delle società più titolate della Pallamano italiana, quindi non potrebbe esserci forse occasione migliore, no? Certo, oggi sono venuti tra l'altro fuori i calendari che ci vedono impegnati il giorno 17 in quel Diodarzo contro la squadra locale, poi il giorno 23 siamo ospitati dal Ferrara e poi il 25 la grande giornata di inaugurazione, saranno presenti sicuramente tutte le autorità, noi con grosso piacere le abbiamo invitati e poi la partita che ci onora di giocare contro la titolata Trieste che ci ha concesso appunto l'onore dell'apertura di questo palazzetto e di questo ne siamo veramente onorati. Sarà un'occasione importante, la squadra adesso sta lavorando agli ordini di coach acceso per arrivare pronta anche a questo evento che come dicevo rimarrà per un po' di tempo nella memoria collettiva, quindi gruppo che si sta compattando, magari ci saranno dei tasselli, speriamo che ne possano arrivare, comunque MT che sarà chiamata a confermare e speriamo anche a migliorare il risultato della passata stagione e farlo magari in questo palazzetto potrà dare un valore aggiunto, no? Sì, il tecnico e i ragazzi già da una ventina di giorni che stanno calcando il campo da gioco, dobbiamo ancora prendere l'uso di questa struttura, però sicuramente ci stiamo già allenando. Sì, ha a disposizione quasi tutta quanta la rosa, dico quasi perché qualche tassello dobbiamo ancora completarlo, ma sicuramente, anzi io mi auguro che la cosa possa avvenire. Che dire, sicuramente quello che ci aspettiamo è che cerchiamo quest'anno di migliorare la nostra posizione in classifica, anche se l'anno scorso è andato più oltre ogni rose a previsione. Certo che adesso l'appetito viene mangiando e noi abbiamo già chiesto ai ragazzi sicuramente di poter cercare di fare meglio dell'anno scorso, poi sicuramente sarà il campo a dirlo, non certo le chiacchiere di precampionato.